All'ultimo pasto con 2.595 punti, rivendi! Al terzo pasto con 2.715 punti, rivendi! Vincitore per l'oratore estivo del 2017 San Luigi Contata, col sonni 55 punti in più dai secondi, il vincitore di quest'anno è... Campanita! Salutate la trapolista! Salute la trapolista! Salute la trapolista! Un applauso a Rosalia e a Gela Castellini!